inizia un nuovo giorno e si parte per un nuovo giro il giorno in cui il giro d'italia parte da osimo e andiamo quindi a osimo partendo dal taunus e questo video arriva fino a castel fidardo giornata spettacolare per ora a presto 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Qui abbiamo un pullman No è un camion Niente, falso allarme Nessun pullman delle squadre Qua E noi adesso andiamo a Loreto Direzione Loreto Ma in realtà andiamo a Osino Con una strada diversa da quella fatta ieri E diversa anche dal primo giorno Curva destra E' un camion parcheggiato all'imbocco della ciclabile Un genio A questo però bisogna fargli una multa e ritirargli la licenza Non si può parcheggiare all'imbocco della ciclabile Hop Ripartiamo dopo aver verificato che Quei vetri sparsi per terra Non avessero causato danni ai pneumatici Tutto ok Via Si ripartiamo Grazie a tutti E tra poco ci sarà il bivio in cui andremo nella parte diversa rispetto a ieri, qui però occhio perché c'è un fondo molto rovinato, destra invece che sinistra. Ok. 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 Calità di Castelfinardo Osimo Direzione Osimo Direzione Osimo Iesi Dai 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 passiamo prima di farlo Si Passiamo prima di farlo Bello perchè prima Osimo era sette e ora è diventato nove Vigneti, vigneti, vigneti Sulla sinistra si vede i recanati Guarda che spontaneo Ecco Questo momento di fronte a noi E qui finisce acqua viva E qui finisce acqua viva Qui inizia la strada Massacrata Qui inizia una salita dolce Pedalabile Pedalabile Impraticabile E qui non servono assolutamente a niente Guarda com'è conciata Altro che rattoppini E anche la qualità dell'asfalto La preparazione La preparazione sotto l'asfalto Ecco E' tutto un macello sulla destra Va rifatta Va rifatta sta strada Inutile sti cartellini messi per far finta che fate qualcosa Rifate la strada Completamente Mettetela nuovo Come se dovesse passare il giro d'Italia Forza, uno sforzo Era Castelfidardo che si vedeva Ovviamente Questo video è finito Metti mi piace Iscriviti al canale In modo da essere informato Su tutti i nuovi video che vengono pubblicati Guarda altri video Ce ne sono di vari generi Questo giro ovviamente continua Guarda i prossimi video Ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima